Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Federica Nargi, protagonista di spettacolo non solo sulla pista di Ballando con le stelle, ma anche dietro le quinte del programma. La ex velina si è confessata in una divertente intervista a Ballando Segreto, svelando un aneddoto esilarante riguardante una delle sue figlie. Inoltre ha condiviso sui social un siparietto virale, coinvolgendo anche la collega Sonia Bruganelli. La moglie dell'ex calciatore matri sta conquistando i fan del programma con simpatia e gag irresistibili. Durante un'intervista a Ballando Segreto, Federica ha raccontato un aneddoto divertente riguardante la reazione di sua figlia dopo la sua esibizione. Le parole della bambina hanno intenerito e divertito i fan del programma. Ma non è finita qui, perché la Nargi si è anche lanciata in un siparietto con Sonia Bruganelli. Durante una visita alla saletta a prove, le due hanno scherzato sul comportamento dei rispettivi partner di Ballo, Guillermo Mariotto e Luca Favilla. Federica ha condiviso il momento divertente sui social, sottolineando l'affetto che le lega a Sonia. È evidente che la Nargi e la Bruganelli si divertono insieme e sono favorite per diventare le beniamine di questa edizione di Ballando con le stelle. La loro simpatia e spontaneità stanno conquistando il pubblico, che non vede l'ora di seguirle nelle prossime...